La scena è impressionante. Mentre i clienti affollano il bar seduti ai tavoli o davanti al bancone, accade tutto in pochi secondi. Una Fiat 500 abbatte la siepe davanti al locale e sfonda la vetrata. Tra schegge di vetro e il rumore, simile a un'esplosione, l'auto finisce la sua corsa contro il bancone, tra clienti che cadono a terra e altri che riescono a mettersi in salvo. Poteva davvero finire molto male. È accaduto al bar Patagonia, in via Cabaroncello, al confine tra Bassano e Cassola. All'interno, oltre al bar, c'è lo spazio dedicato alla tabaccheria, che si trova però dalla parte opposta alla vetrata e dove, per fortuna, nessuno ha corso pericoli. Quando l'auto irrompe nel locale, sulle panche c'erano sedute alcune persone che sono state sbalzate via, mentre altri clienti erano seduti ai tavolini della sala. Insomma, dicevamo, è solo per una gran fortuna che il bilancio non è molto più grave. La donna, la guida dell'auto, intanto rimane incastrata. Con l'arrivo dei soccorsi, viene liberata e trasportata in ospedale. È sotto shock, ma non è in gravi condizioni. Solo tanto spavento e qualche scoriazione anche per i clienti. Alcuni colpiti dai vetri, accompagnati per precauzione al pronto soccorso. Sul posto, la polizia locale, per raccogliere le testimonianze e per i rilievi. La dinamica è da ricostruire, infatti. Però, sembra che ci sia stato un tamponamento con un'altra auto lungo la strada e nell'impatto la Fiat sia finita contro il locale, che ovviamente ha subito danni notevoli.